Siamo in compagnia del senatore Picchetto. In questi 90 giorni dal voto delle politiche, il 4 marzo, chi ha mandato avanti il Paese? L'ha mandato avanti un governo, il governo Gentiloni, dimissionario, quindi solo negli atti ordinari amministrazioni. La presenza, non potendo fare le commissioni a livello parlamentare, perché non si sapeva chi era maggioranza e opposizione, ci sono delle commissioni proporzionali, si è praticamente una commissione speciale, proporzionale, che al Senato vede 27 persone, io sono capogruppo dei 5 di Forza Italia, naturalmente, e quindi valuta tutti i temi, tutti gli argomenti, quindi si passa dai problemi economici ai pareri sui decreti legislativi. Lei non è nuovo a questo tipo di responsabilità, perché già durante alcuni governi del Presidente Berlusconi, mi corregga la data, me la precisi, lei sostanzialmente collaborava o lavorava attivamente sulla stesura del documento del bilancio, è così? Sì, ho fatto il capogruppo in commissione bilancio dal 2008 al 2013 e peraltro al 2008 al 2011 con il governo Berlusconi, col PDL, pertanto un po' di esperienza su quel fronte l'ho fatta, che cerco di mettere a frutto, di renderla utile in questo frangente, che è un difficile frangente per la Repubblica. A lei non piace l'espressione, ma lei è un pezzo importante di Forza Italia a livello regionale e nazionale. Quali sono i reali conti del Paese? Sono così disastrosi come sembra in alcuni momenti, in alcune ricostruzioni giornalistiche, o la situazione reale è migliore di quella che viene presentata in alcune circostanze? Ecco, a parte smentire il fatto che io sia un pezzo da 90, su quello rischio solo nel peso fisico, quindi non c'è questo problema. La situazione del Paese non è bellissima perché abbiamo un debito pubblico molto alto, quindi tutto questo fa sì che ci sia sempre qualcuno che compra i nostri titoli, debba esserci sempre qualcuno che compra i nostri titoli per farci andare avanti. Dall'altra parte questo è un Paese però che ha mille risorse, che ha comunque una grande industria perché siamo il secondo Paese manifatturiero d'Europa e che quindi ha una solidità sua autonoma, certo solidi, ma con dei debiti belli alti. Bene, ringraziamo il senatore Picchetto per Forza Italia, Paolo Labua, Newsbiella.